Non c'è stata una cosa principale, diciamo che il suo approccio al gruppo è stato molto spontaneo, molto rilassato, molto scherzoso e questo comunque dice anche la sua giovane età, è molto legato a noi, già dopo pochi giorni si sente già immerso completamente in questo progetto e sta cercando di dare tutto se stesso in questa sua nuova avventura e noi come giocatori credo che stiamo cercando di essere molto concentrati nella sua metodologia perché è un tipo di gioco in cui serve molta pazienza e molta concentrazione per poterlo sviluppare in maniera perfetta. Grazie.